Come scaricare video su Facebook? Andiamo su App Store, scarichiamo questa applicazione, Scaricatore Video L'applicazione pesa 33 MB, abbastanza leggera Io già l'ho scaricata L'applicazione è molto semplice C'è il browser interno, la sezione download, la sezione dei file La playlist che possiamo creare e le impostazioni Uno riguarda il lettore, quindi l'avvio anche di video in background La possibilità di bloccare all'interno del barattolo la pubblicità, la versione privata Poi come ho autorizzati Qui c'è invece il manager delle password Qui invece c'è le impostazioni per contribuire tra loro e dei file Qui invece ci sono altre opzioni di sicurezza Lì in basso c'è la possibilità di aggiornare la versione Pro Che avrà di tutti i miei ventaggi E poi anche la segnalazione di bug Vediamo quello che interessa a noi Ovvero andare su Facebook e scaricare i video Accediamo alla versione mobile di Facebook Io ho già fatto tutta la procedura di login Nella pagina di iPhone Country proviamo a scaricare un video Appunto una guida che ho realizzato la settimana scorsa In basso a sinistra c'è la possibilità di scaricare tramite l'icona del floppy Il video che stiamo riproducendo Il video che stiamo riportando